Dopo il video scorso, che tra l'altro trovi qua sotto in descrizione, ovvero quello sull'attrezzatura manuale indispensabile, gli attrezzi manuali indispensabili per poter lavorare il legno, voglio mostrarti subito un paio di esercizi che puoi fare per migliorare la tua tecnica, per migliorare la precisione e anche per iniziare a fare qualcosa di concreto. Prima di andare avanti però, guarda qui la magliettina, la t-shirt, olio di gomito, l'unica magliettina che indossandola ti mette voglia di lavorare. Qui sotto in descrizione trovi il link per acquistare la t-shirt olio di gomito, per ora in due versioni, bianca e nera, bellissime. Ancora un minuto di attenzione perché ti devo parlare del 3 giugno e del 4 giugno. 3 giugno, workshop di fresatura manuale, 4 giugno, workshop di CNC CAD CAM, quindi fresatura ma con le macchine a controllo numerico. Per quanto riguarda il 3 giugno c'è un'enorme novità, praticamente un colpo di testa e ho acquistato il Pantorouter. Sai che cos'è il Pantorouter? Beh, praticamente è questo qua, questo che vedi ora nell'immagine. Tra l'altro possiedo già due mandrini compatibili con il Pantorouter, ma io sto acquistando quello per il mandrino più grande, quello da 1400 W. Mi dovrebbe arrivare da qui a una decina di giorni, perciò in tempo per il workshop del 3 giugno. Workshop o, se preferisci, una giornata laboratorio dedicata alla fresatura manuale. Quindi, fresatrici verticali, parleremo anche di frese, parleremo di tavoli di fresatura, parleremo della Dima per fare le cose di rondine e ovviamente ci sarà il Pantorouter. Non pensare che parleremo e basta, li utilizzeremo anche, ok? Perché la giornata è dedicata a quello. Ovviamente si pranza assieme per evitare dispersioni, insomma saranno due bellissime giornate, ovviamente a numero chiuso, qui sotto il link per poter partecipare. Qui da me, eh? Qui da me a giugno, in Sardegna, sul mare. Una figata! Perfetto artigiano, allora se ben ricordi, nel video dove parlavo dell'attrezzatura essenziale per poter lavorare il legno a mano, ho introdotto queste tre seghe giapponesi e qualcuno, anzi più di uno, non tanto per la kataba ma per la dioba, mi hanno detto però io non riesco a tagliare dritto con la dioba. Ho voluto ideare questo esercizio che vedi qua per farti capire anche come poter utilizzare al meglio sia la dioba che la kataba perché praticamente i più mi hanno criticato, non criticato, mi hanno detto che con questa non si riesce a lavorare bene come vedono fare nei video di altri. E con questa qualcuno, qualcuno mi ha detto ma sai che con la kataba non mi è mai uscito un taglio dritto? Ora c'è kataba e kataba, ok? Questa qui, se vedi, ha la dentatura che non è lineare, non è disposta su un profilo dritto appunto della lama, ma è leggermente panciuta. E dopo ti farò vedere perché questo particolare profilo della dentatura avvantaggia durante le fasi del taglio. Quindi aiuta chi sta maneggiando l'attrezzo, chi sta utilizzando l'attrezzo per segare, per troncare in questo caso la tavola, aiuta a far andare dritto il taglio, ok? Questo esercizio è molto semplice. Da questa tavola che c'è qua sul banco mi ricavo due ulteriori tavolette che poi andrò a unire. Quindi facendo tutti questi tagli io riesco a dimostrarti qualche esercizio che puoi fare appunto per migliorare il tuo utilizzo delle seghe giapponesi. Parto col fatto che mi serve una sezione di questa tavola che poi ulteriormente andrò a dividere per crearmi le due tavolette. Allora, diciamo che voglio un pezzo da tipo 310 mm. Fatta la traccia per tagliare questa tavola potrei usare questa sega qui che è una cataba più orientata alla carpenteria. La differenza tra queste due seghe è che questa qui ha il profilo della dentatura e è disposta su una curva della dentatura. Non è lineare come questo. Questo qui mi ha vantaggio. Perché mi ha vantaggio? Perché nel momento in cui inizio a segare in questo modo e abbasso la sega così porto la sega verso la faccia della tavola riesco praticamente con i denti ad andare a seguire perfettamente la linea che mi sono tracciato con la matita. E questo di conseguenza mi permette di effettuare un taglio dritto. Ovvio che se ci prendi la mano fai la stessa cosa anche con questo. Non sarà comodo come questo perché i denti non sono disposti su una linea curva ma comunque si può fare uguale con un po' più di attenzione e un po' più di pazienza. Durante il taglio sono riuscito a seguire perfettamente la linea sicuramente il merito è della geometria particolare di questa lama di questa cataba non per niente te l'ho consigliata l'altra volta piuttosto che prendere una classica cataba con il filo della dentatura dritto piuttosto prendi quello tanto il prezzo non varia oppure c'è qualche euro di differenza ma non di più ma andiamo avanti con gli esercizi da fare che ti voglio mostrare per poter utilizzare al meglio le sega giapponesi. Messa la tavoletta in morsa tracciata più o meno a metà per dividerla in ulteriori due tavolette per poi proseguire l'esercizio. L'appunto che mi è stato fatto è che con la rioba è difficile utilizzando la filatura per taglio lungovena quindi questa dove c'è il dente progressivo è difficile andare perfettamente dritti è difficile seguire una linea. Ok allora per facilitare questo si può fare si può utilizzare la dozuki universale alla costola quindi è molto più rigida la lama nonostante sia più sottile della rioba cosa faccio praticamente? Mi creo un taglio che farà da guida per poi utilizzare la rioba fatto questo ovvero creato il taglio creata la guida adesso devo fare attenzione devo cercare di seguirlo il meglio possibile per evitare errori soprattutto le prime volte magari fai una roba del genere allora dopo che ti sei creato il taglio guida ulteriormente abbassando in questo modo la sega vai praticamente proprio a seguire la linea fatta con la matita ok? segui la linea fatta con la matita e dopodiché vai ad asportare il materiale ammetto che può essere difficile utilizzare la rioba le prime volte però se ti ci metti fai un po' di pratica tranquillo che i risultati arrivano vedi? vedi praticamente mi sto facilitando la traccia sto continuando a creare la traccia e sto sfruttando il dente più piccolo perché? sto sfruttando l'inizio della lama perché il dente che praticamente si è vero taglia di meno ma impunta anche di meno impuntando di meno mi dà modo di essere parecchio più preciso se io volessi fare questo andando a lavorare sull'estremità della lama rischierei ecco vedi a parte che si impunta e poi rischierei soprattutto di non andare di non riuscire a seguire perfettamente la linea fatta con la matita quindi faccio così riesco a seguire la linea fatta con la matita ovviamente non sto tagliando tutta la tavola sto tagliando più la parte verso di me quindi poi raddrizzo più o meno non del tutto ma raddrizzo la lama e proseguo il taglio proseguo il taglio nel momento in cui io osservo sempre la lama e la linea della matita nel momento in cui vedo che c'è una leggera deviazione allora mi riporto a fare questo lavoro perché perché riporto la lama a seguire la traccia della matita insomma te la sto facendo un po' complicata ma ti assicuro che è davvero semplice ora arrivato a sto punto io ribalto perché non riesco più o meglio potrei continuare ma ti faccio vedere come riprendere dall'altro lato dall'altra testa sempre latozuki inizio il taglio con latozuki quindi lo poggio sulla linea fatta con la matita quando ti vibra il pezzo perché magari sporge come in questo caso ti appoggi la mano e lo spingi leggermente e così praticamente stai assorbendo tu le vibrazioni allora da questa parte non sono andato perfetto ma non mi interessa perché adesso lo riprendo con la rioba poi proseguo il taglio controllo un attimo da questa parte se vedo che proprio non riesco a rimediare qua ma sto tornando sto tornando sulla linea se proprio vedo che non riesco a rimediare da questa parte giro la tavola aspetta che te lo faccio vedere giro la tavola in questo modo e mi aggiusto il taglio da questa parte così e proseguo ecco qua dunque ovviamente il taglio non è uscito perfetto perché perché quando parti dalle due teste e poi andando a incontrare beh è abbastanza difficile che l'incontro sia esattamente in asse comunque le pialle esistono per quello per andare a retificare ciò che si è segato allora artigiano che faccio vado avanti a spiegare le cose o mi fermo un attimo perché ti vedo stanco sai perché ti vedo stanco perché non hai ancora la magliettina olio di gomito l'unica magliettina che ti mette la carica ti fa venire voglia di lavorare dunque se ben ricordi nell'altro video ti ho parlato anche di questa come prima pialla da acquistare abbinato poi ovviamente al la Revet Block Plane questa qui ok diciamo che sono le prime due che io ti consiglio queste in base a come la penso io allora devo andare a piallarmi le coste di queste tavole tra l'altro poi devo dimensionare queste tavole esattamente almeno della stessa larghezza non della stessa lunghezza e poi almeno una testa per ogni tavoletta deve essere perfettamente in squadra con con le coste le tengo accoppiate per finire di squadrare le tavole quindi intestarle poi comunque portare le due coste essere parallele continuo il lavoro qui sulla shooting board e la shooting plane di Veritas potrei fare la stessa cosa con questo ma il problema è che ho la pialla ma non ho la shooting board perché è sopra la cabina non ho voglia di arrampicarmi di mettere la scala e di salire sopra la cabina quindi utilizzo questa dai farò lo sforzo di utilizzare questa robaccia allora per primo mi vado a intestare le tavole mi serve solo una testa per ciascuna tavoletta a 90 gradi ora artigiano l'esercizio con le seghe giapponesi prosegue con l'utilizzo esclusivo della Dozuki tavolette perfettamente squadrate quindi ora posso andare a tracciarmi col truschino truschino della Dictum sto utilizzando è uno degli attrezzi che ti ho raccomandato nel video precedente l'attrezzatura indispensabile da avere per poter lavorare il legno a mano allora l'ultimo esercizio sarà con la Dozuki per dimostrarti le qualità della sega ma anche per farti vedere come utilizzarla al meglio non mi addentro nel tipo di unione un'unione semplice a coda di rondine aperto riporto lo spessore della prima tavola sulla seconda tavola ok come misuro lo spessore beh allento il truschino in questo caso posso poggiare la tavola a cui devo rilevare lo spessore sulla seconda la battuta del truschino sulla tavola che c'è in alto ovviamente e mando abbattere invece l'asta l'estremità dell'asta sulla tavoletta che c'è sotto facendo così blocco l'asta e mi sono andato a regolare automaticamente lo spessore della tavoletta le tavolette adesso sono dello stesso spessore metti il caso che abbiano diverso spessore comunque questo spessore adesso lo riporto sull'altra ok per fare questo metto un attimo così tac fatto posiziono la tavoletta un attimo in morsa perché così riesco a tracciarmela in maniera più agevole fatte le tracce su una delle due tavolette e proseguo l'esercizio quindi lo zucchi la mano qui posso fare in due modi diciamo ora o mi inclino la tavoletta di modo che mi rimanga la traccia questa e questa mi rimanga perfettamente dritta quindi io tengo praticamente la sega dritta in questo modo ok così e taglio l'unica cosa a cui devo prestare molta attenzione è non andare al di sotto della spalla ok e quindi faccio questo e faccio anche questo un'altra cosa a cui devo fare attenzione è che comunque la dozuki mentre scende deve andare la lama deve andare sulla traccia matita che ho da questa parte ma deve andare anche sulla traccia matita che ho da quella parte quindi evitare di fare questo ok adesso potrei battere la tavola dall'altra parte e quindi presentarla in modo che mi mantengo la dozuki dritta e faccio questi tagli ma questo lo fai le prime volte lo fai ok però fallo le prime volte fai così poi ti assicuro che non avrai più motivo di di farlo ovvero andrei a tenere a inclinare la la sega piuttosto che inclinare il pezzo va bene fai attenzione che anche se ha una dentatura fitta la dozuki comunque è veloce è rapido come taglio quindi un attimo andare al di sotto della linea anzi vedi qui poco 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 ci sono andato sotto ma non fa niente tanto questo è abetaccio svuotamento quindi questa parte centrale deve andare via potrei farlo con gli scalpelli ma dovrei lavorare in piano ci impiegherei un bel po oppure prendo un seghetto a copiare e vado semplicemente a eliminare più materiale possibile facendo attenzione a rimanere al di sopra della linea che mi delimita la spalla adesso io sto usando questo di seghetto a copiare nel video ti avevo raccomandato questo perché? perché questo qui costa uno sproposito questo qui te la cavi con 20 euro e fanno esattamente lo stesso lavoro proseguo il lavoro e vado a eliminare questo vado a eliminare questo tra l'altro ve lo consiglio di evidenziartelo con la matita così lo vedi meglio ok il pezzo tienilo fermo in morsa magari scalpelli scalpelli ricordati ti ho consigliato quelli della Stanley tra l'altro sono andato a cercare il set comunque il kit da 4 non sono riuscito a trovarlo però se non mi ricordo male ho messo comunque il link di quello da 8 che è più completo e sicuramente si risparmia qualcosa piuttosto che comprare quello da 4 quello da 4 diciamo che ha un costo per scalpello maggiore rispetto a prendere il set da 8 sto andando ad aggiustare un po' le code ok niente di che solo ecco qua solo un po' di pulizia praticamente adesso devo riportare questa sagoma sulla testa dell'altra tavoletta per completare l'unione allineato tutto coltellino alla traccia della Stanley mi raccomando perché veramente 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 comodo ma soprattutto preciso poi arriva ovunque perfetto quindi tengo fermo con una mano e con l'altra uso coltellino alla traccia per riportare la sagoma delle code sulla testa dell'altra tavola quindi vado a ricavarmi i pioli prendo subito la matita vado a ricalcare le tracce appena fatte in questo modo devo semplicemente delimitare la spalla quindi vado a misurare la tavoletta dove ci sono le code lo spessore della tavoletta dove ci sono le code e lo riporto sulla tavoletta cui devo ricavarmi appunto i pioli bellissimo questo truschino della dictum te lo stran raccomando come ti raccomando anche per non perderti d'animo non far non affaticarti ma soprattutto portare il lavoro a termine ti raccomando di indossare la magliettina olio di gomito il taglio farlo cadere all'interno del materiale di scarto non tagliare esattamente sulla linea nel momento in cui hai eseguito il taglio la linea con la matita si dovrebbe vedere ancora questo e questo devono andare via perché è materiale scarto quindi svuotamento un po' di pulizia con gli scalpelli ed è per questo che è importante avere gli scalpelli sempre ben affilati soprattutto prima di iniziare a lavorare e quindi è anche importante non solo quindi avere gli scalpelli affilati ma avere anche le pietre e avere anche le guide per affilare ma di questo sai benissimo che te ne ho parlato nell'altro video video che comunque trovi qua sotto e poi sotto in descrizione ti faccio trovare il video dell'altra volta e in più un altro elenco di video sempre dedicati alla lavorazione manuale con gli utensili ovviamente sempre i video miei e adesso gli do una pulita ovvero una piallatina per fare questo posso usare benissimo la Rebet perché comunque si presta molto a fare anche questo genere di lavori diciamo che può essere usata anche come piccola smoothing plane quindi una piccola pialla di finitura e inoltre proprio per proprio per la filatura e la posizione della lama si presta molto a lavorare appunto in questo caso le code di testa la tengo leggermente inclinata ovvio che con questa faccio prima artigiano ricordati che il proposito di questo video non è mostrarti come fare questo tipo di unione su abete del cavolo una unione a cosa di rondine aperta ma è mostrarti qualche tecnica che io ho affinato sull'utilizzo delle seghe giapponesi soprattutto della rioba della kataba e poi ovviamente vabbè la dozuki diciamo che tra le tre è la più semplice da utilizzare va bene quindi questo è quanto adesso qualcuno arriverà e dirà tutto quel tempo per fare questo lavoro io faccio prima con ma certo ma certo io ti rispondo thanks to the dick va bene ma andiamo avanti allora questo è quanto mi raccomando qui sotto trovi il link del video precedente così se hai bisogno di un recap per quanto riguarda l'attrezzatura lo trovi lì qua sotto ti faccio trovare almeno se ci riesco il link perché l'altra volta credo di non averlo messo almeno a questa ok che è molto interessante molto poi la rioba alla dozuki sono facili da trovare questa no questa proprio bisogna andarla a cercare per immagini non per nome troverai il link anche della maglietta qua sotto mi raccomando mi raccomando perché se vuoi lavorare con utensili manuali devi metterti la magliettina in olio di gomito se non ti metti la magliettina in olio di gomito praticamente fai il doppio il triplo della fatica a lavorare ricordati poi 3 giugno laboratorio di fresatura manuale tra l'altro in esclusiva ci sarà anche il pantorouter da utilizzare tra le varie cose quindi lavorazioni faremo lavorazioni a mano con le fresatrici e rifilatori a mano poi lavoreremo su tavoli di fresatura lavoreremo sulla dima per le code di rondine e lavoreremo sul pantorouter non vedo l'ora perché anche io non l'ho mai utilizzato quindi spero mi arrivi qualche giorno prima per poterlo provare e quindi anche capire un po' come va questo è il 3 giugno qui da me in laboratorio il 4 giugno invece laboratorio di fresatura con le macchine a controllo numerico tutto quello che riguarda diciamo in una giornata cerchiamo di coprire tutto quello che riguarda a grandi linee la lavorazione con le macchine a controllo numerico quindi il CAD il CAM le macchine e poi ovviamente non ci sono solo le pantografie per legno ma ci sono anche pantografie per le lamiere per il taglio lamiere e poi c'è il taglio laser CO2 proseguendo allora sicuramente il video ti è piaciuto quindi lascia un like non sei ancora iscritto cosa aspetti scriviti poi attiva la campanella se qualcosa non ti è stato chiaro di quello che hai visto lasciami un commento scrivi quello che non ti è chiaro oppure non trovi un particolare attrezzo vedo un po' di cercartelo io se invece vuoi una spiegazione un po' lunghetta piuttosto che scrivertela ma te lo scrivo ti rimando a Instagram o a TikTok capito? ti dico guarda faccio prima fare una storia su Instagram e te lo spiego lì va bene? e con questo è davvero tutto noi ci sentiamo nel prossimo video stammi bene ciao tijano